Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus Nello scorso episodio sono arrivato in questa bellissima spiaggia di oltremare Ho esplorato un po' la zona, ho parlato con la guardiana di uno dei Pokémon regali Che però il Pokémon regale purtroppo è morto per salvare suo figlio Ed oggi tocca andare avanti per parlare con un altro reggente Non un reggente ma con un altro membro del team Diamante Dato che lo scorso era del team Perla E dobbiamo arrivare praticamente da qui non si vede Noi siamo qui, eccoci, bisogna arrivare all'isola Mangiafuoco Tempietto Cratere Bisogna arrivare qui e ci serve un Pokémon che possa cavalcare le onde Ah, e te lo... Ah, ci interrompe, beh no, perché avevo troppa mobilità, non mi riportavano i conti Ma guarda un po', Link, curioso incontrarci in un posto simile Il sottoscritto è alla ricerca di lastre A tal proposito, la tua raccolta procede senza intoppi? Eh, abbastanza, diciamo, sì Non essere modesto nei poesie di già quattro, non è forse così? Cos'è, le annusi? Le senti? Senti l'odore? Alcune le ha acquisite sconfiggendo i Pokémon regali Altre dopo essere riuscite a viaggiare sul dorso di certi Pokémon, non ho inteso bene? Già Mi sfugge perché, ma il modo in cui stai recuperando le lastre riavoca in me l'immagine dell'eroe dell'antichità Sai, quella figura che ha lottato contro il sommosinno? Fu qual è? Non travi sia una vicenda curiosa? Si tramanda che dieci Pokémon al servizio dell'eroe abbiano ricevuto dei poteri dal sommosinno Perché mai avrebbero allora deciso di sfidarlo a fianco dell'eroe? Forse radunare tutte le lastre ci permetterebbe di sfidare l'arcano? Non ci resta che dedicarci alla crementa e alla raccolta Ma ti prego di non fare passo più lungo della gamba, non vorrei perdere un affezionato cliente Non ho mai comprato niente da te Ma non perché io non volessi, ma perché non potevo Ah, là ci sono altri APOM Andiamoci cauti allora Ok Andiamo un po' Eccolo qua Dai piccolo APOM, su Vieni dentro la Pokéball Ok Dunque Dovrei craftarmi delle megaball a dire il vero Ma sì, dai facciamo Prima di parlare con questo tizio mi faccio un po' delle megaball Che cucini di buono? Niente, non si sa Entriamo Ospiti? Oh, arrivo subito Un attimo solo Allora Allora Ogni volta è un colpo per me Quindi per cortesia non lo fare più E la prossima volta ti chiamo con l'archeos phone Tranquillo Ma tornando a noi Come posso esserti utile? L'isola mangiafuoco Proprio dialoghi Molto stremenziti Cioè Vuoi andare all'isola mangiafuoco? Allora ti serve il cibo preferito di Basco Legion Senza quel cibo non si federà mai di te Ma la preparazione è un po' Ecco Difficile O forse sarebbe meglio dire Praticamente impossibile E perché? Ti faccio vedere I materiali li ho tutti a portata di mano Ma Qui viene la parte impossibile È necessario catturare un Pokémon Che si vede solamente di notte Che Pokémon? Allora vuoi davvero sapere come si fa? Ma Non hai paura di rischiare la vita? Si tratta di D D Das Glops Ah Sono a pronunciare dopo Mi vengono i brividi La mossa nel repulsore di Das Glops Riesce a donare un sapore tutto particolare I materiali Ed è così che si prepara il cibo preferito di Basco Legion Praticamente la morte Ho capito Voi del team Galassia siete davvero Impavidi Fin troppo secondo me Siete così impavidi che Fate un po' paura Das Insomma il Pokémon che cerchiamo Ha un occhio solo E quando cada la notte Lo si vede vagare per il Fantasmeto Se non sai dove è Fantasmeto È facile trovare sulla mappa La forma di una mano C'è anche qualche relitto di nave Lì nella zona Ah ma sentimi I Das Quelli lì mi fanno così paura Che sono informatissimo Su dove trovarli Ehm Se vuoi puoi aspettare qui Finché non fa buio Cosa ne pensi? Va benissimo D'accordo Bene Però mi risparmio le Megaball Per Sì però io devo anche riposarmi Zio Eh Scusami se te lo dico Ok Ohia Ah Tess è lui Bravo Ok Ma no Ma Nardo Ma che cavolo Ma dai Ok remake di Quinta Confermati Ma a questo pare Oddio Sì No Cavoli Mi sfugge il nome ora C'è la sola punta della lingua Chi sembra Cavoli Non mi viene il nome Però so benissimo Chi mi sembra Allora Io devo curarmi i Pokémon però Cavoli Non pensavo mi facesse curare Bene Yuppie Ehi Ehi Aia E vabbè Non ci posso fare niente Mi piace buttarmi E farmi male Chi cerca lei Signora Ehi tu senti un po' E per caso ho visto gli origini Della squadra di dire No E dove sarà andato Puoi darmi a cercarlo Va bene Ah per costruire la base Certo Quindi qui ci sono Pokémon O Spettro Beh è giusto Immagino che Dusk Noir Sia un Pokémon No forse Alpha No Stavo per dire Alpha Ma Alpha sarebbe un po' Troppo Anche per Per Game Freak Programmare un Pokémon Alpha Sì però Allora Cioè Affogare qui Sul serio Affogare nel nulla Cavoli È un po' pesante Eh Non so se ve lo dico Ma Cacchiarola Nel nulla proprio Allora devo andare Secondo me Qua in profondità Proprio nel Addentrarmi Nella parte Più oscura Ok questo Niente Non è un pezzo Di materiale Ah Dusk Lops Dusk Vabbè Sì Insomma Eccolo qua Dusk Ecco Mi viene il nome Di quello Di quell'altro Allora Cacchiarola Shagura Sì però Anche tu Cioè Teflotion Va bene Va bene Wow Chi è E E E Oh È che stiamo A casa Cioè sì Stiamo a casa Tu in effetti Sì Quindi Ha anche ragione Non mi ero accorto Sopra dal cerchietto No Dicevo Ok che è forte Teflotion Però Cavoli Non è L'unico Vero O catturo Dusk Le lo faccio Evolvere Allora Riecco un altro Dusk Lops Ho fatto passare Praticamente Un giorno Interno Nel gioco Andiamo Conto Anonda Eccolo qua Paralizzato Ottimo Farei Un Tonoshock Di circostanza Buono Un altro Tonoshock Di circostanza Così Faccio Rapido Prendo Un altro Turno E vai con la Megaball Dai La Pesoball E la Megatomball Dicono che Ok preso Hanno più effetto Su Pokémon Che sono Distratti Ma Sono più Forti Della normale Megaball E Compagnia Cantante Perché Se no Cioè Uso quelle A questo punto Ho preso Dusclops E dato che Devo portarlo Al nostro Amico Sinem Vado A città Faccio Rapporto Chissà Se salgo Di livello 9000 Pokédon Non male Non male No Solo 500 Punti Cos Ah Perché Gli altri L'avevo Già Catturati E Non Ho Completato Pagine Ah Tornare A villaggio Ok Ecco Ora che Ho Quattro Box Pieni Posso Anche Liberare I Pokémon In massa Ma è una cosa Che per il momento Non farò Dunque Ma ciò Che si è Evoluto Magari Nel prossimo Episodio Lo faccio Evolvere In Machamp Visto che Posso Comprare Il Cavolink Quindi Nel prossimo Andremo Con Machamp E Non so Però Se Dusclops Effettivamente Serva davvero Per renderlo E portarlo Da Sinan Io L'ho Fatto Anche Per Comodità Per Contarmi Pokédex Quindi Alla fine Due piccioni Con una Fava Dai Eccomi qua Sono Arrivato Sinan Con Dusclops Si ce l'ho Ah Anche Dal Pascolo E' Vero Ah Che tonto Che sono Oh L'hai catturato Eh No Non c'è bisogno Di farlo Uscire Dalla Pokéball E quindi Sei davvero decisora Ad andare sull'isola Mangiafuoco Eh E va bene Sono pronta Anch'io a fare La mia parte Di solito Chiedo aiuto A Grolith Di Guaran Ma stavolta Dovrai essere Tu a guadagnarti La fiducia Di Basco Legion Quindi Al mio segnale Fai usare Nero Pulsor A quel Pokémon Che inizia Per Dus E finisce Per Klops Ok Ma adesso E' buono E' ammansito Guarda che occhio Vitreo 3 2 No Non ce la faccio Ho troppa paura Riproviamo Va bene Però facendo il conto Della rovescia Finisco per Spormentarmi Ancora di più Allora lasciamo perdere E non indugiamo più Però volevo provare Guarda che Mi arrabbio Via Il cibo preferito Di Basco Legion E' pronto Ha un profumino Davvero delizioso Nesca Basco Legion Yeah Il piatto preferito Di Basco Legion Composto da materiali Peculiari E cotto Con metodi Altrettanto Peculiari Odore perfetto Forma perfetta Complimenti Un Nesca Basco Legion Ineccebibile Adesso possiamo andare Alla spiaggia Gingo Dove ci aspettavano Riom Basco Legion E dov'è la spiaggia Gingo Alla Ah Povero weirdo Ti faccio rompere le gambe Le zampe Non le gambe I pokemon sono animali Più o meno Oddio Discendono dagli umani Non so sinceramente Se zampe o gambe È giusto Lasciamo perdere Va Non importa Basta che funziona Ti stavo aspettando Link Sinen Guarda che modella Oh Guaran Non so se sia una buona idea Incontrarci Non temere Sono sicura che il link Saprà mantenere il segreto E poi Io e mia Grolith Avevamo voglia di rivedere Il nobile Basco Legion Oh Capisco Allora lo chiamo subito Allora lo chiamo subito Su, Link, dai l'esca a Baskuligion Bene Oh Nobile Baskuligion Ah, che sollievo Non so che avrei fatto se Baskuligion non si fosse presentato Link, fa sentire Baskuligion nella melodia del toflato Bene Oh, da lastra idro Ok, dopo la leggo, appena posso In Grop a Baskuligion potrei attraversare in Marsilente e raggiungere l'isola Mangiafuoco Ti faccio i miei complimenti, Link Guaran Come ti avevo già accennato, il precedente re salvò la vita a questo Growlit A dire il vero, in quell'incidente rischia la vita anch'io Furono Sinem e il nobile Baskuligion a trarmi in salvo Da allora nutro un forte affetto nei confronti di Sinem Ma, come già sai Viecchi non ha un'alta opinione di me È per questo che cerchiamo sempre di incontrarci lontano da sguardi indiscreti Non vorrei che la mia cattiva reputazione danneggiasse anche lui Ma Guaran, chiunque mio posto avrebbe fatto altrettanto Sì, ma lei si è innamorata alla fine Mi hai insegnato cos'è il coraggio, Sinem Per merito tu ho trovato la forza di proteggere Growlit senza forzarlo a diventare re Ah beh, forse sarebbe meglio continuare questo discorso in un altro momento Yeah Cavoli, ancora queste? Io sono Floris, la maggiore delle sorelle, belle e fiorenti come una rosa al mattino Rare e sfuggente come l'iride nel cielo Io sono Riris, la secondogenita Preziosa e nobile come l'oro eternamente brillante Io sono Doris, la più giovane Squadra Genio, pronti ad entrare in azione Ricordatevi i nostri nomi perché presto saranno sulla bocca di tutti in questa gelida terra Siamo le sorelle Florido, le tre inafferrabili brigantesse E ora ci prenderemo il tuo Growlit Il mio Growlit? Cos'è questo? Uno scherzo di cattivo gusto? Non mi sorprenderebbe A giudicare dalle vostre presentazioni di cattivo gusto ve ne intendete Esatto, concordo Vai Gengar, adesso! No! C'è riuscito? Ah, proprio, guarda caso quello che deve diventare Mi pare Sì, no, sì, sì, proprio quello grosso Growlit ora è il nostro Voi del team Perle Diamante con le vostre avviute ristrette rendete un incubo la vita della gente come noi Perciò ci servono Pokémon potenti Vogliamo vivere secondo le nostre regole in questa terra sterminata Renderemo Growlit una vera bomba Vedrai Lo faremo diventare un re Sorelle, si torna al copo Nessuno verrà mai a romperci le scatole laggiù col caldo che fa Beh, ce l'ha detto praticamente Ipnosi? No, ci ha lanciato un po' di sabbia, dallo stesso suono che ha fatto Vabbè, è chiaro che sono Al vulcano No, Growlit! Te ne sei accorta tardi E adesso che facciamo, Link? Questo è un pasticcio Un gran pasticcio No? No Io vorrei notare a fianco del mio Pokémon compagno Ma non l'ho mai fatto Potevo lanciare una Pokéball io Però sai com'è Growlit è un Pokémon a me caro Salvalo, ti prego Quelle ragazze Hanno parlato di un posto in cui nessuno vorrebbe mai andare L'unico posto disabitato da queste parti E l'isola mangiafuoco Che siano andate lì Basculigio non puoi darti ad arrivare all'isola Mi unisco alle preghiere di Guaran Salva Growlit, per favore Se proprio devo Oh, grazie, grazie Mille volte, grazie Verremo anche noi sull'isola mangiafuoco No, Guaran Tu aspettaci qui assieme a Growlit Anche se Ad essere sincero Non so se mi ha senso di andare su un'isola piena di fulmini misteriosi e brigantesse accelerate Ma che dico? Basta con questi discorsi Dobbiamo andare Link è subito Sappi che Basculigio non è capace di saltare fino a due volte consecutive E per di più Mentre se in groppa potrai anche lanciare degli strumenti Quindi proprio top tier passaggio Pokémon Tu sapresti persino lanciare delle Pokémon per catturare dei Pokémon, immagino Però non è più facile a dirsi che a farsi Ho ancora un po' i brividi Non è che potresti fare stradatouling? Per cortesia Va bene Oh, possiamo solcare le acque Yes Let's go Ok, si può andare Wow Ah, c'ha il boost lui Ok, bello Mi piace E qui che abbiamo? Delle Pokéball Ok, ho il Remoraid Ah, certo mi attacca, ovvio Però lanciare un Ah, c'è la piattaforma Bellissimo Ha la piattaforma di Archeus poi Ma che cavolo Eh, vabbè però Allora Cioè, se sei un pezzetto di parafango Quanto è brutta l'acqua Mamma mia Cacchia rollo però ragazzi Cioè Dai, un minimo Non dico tanto Come l'ho lanciata Toh Stanco Però ha preso, dai Remoraid è un Pokémon nuovo E questa è una cosa buona Che succede laggiù? Ah, che palle Attaccano a vista questi Mamma mia Che rognosi Eh, pipì Oh Andiamo a mettere un po' contro qui Il fish di Isui, va Ha ha Bello Mi piace tutto quanto viola e nero Bello Allora, questo Vabbè, veleno sicuro Ah, nero pulsar Buio-acqua Ah Sono shock No Non lo vanda Caffò Non è tipo acqua Buio-veleno Cacchia rola Eh, ma Strano Bello però Cioè, un bel tipo Voglio dire Non è classico Pokémon Acqua Solo perché sta in acqua Giusto Così, eh Per carità Ok, dai Ok Stavo per cascare Ok, andiamo È importante raccogliere Tutti quanti gli strumenti Allora, da lì ci sono cascato Quindi non ci devo tornare Ah, ok Perfetto Uh, c'è una grotta Uh, c'è una grotta lì Andiamo ad esplorare Uh Rifless viola Varco della marea Ah, ma mi sa che ci devo passare per forza Sì, ci devo passare per forza Peccato Oh, Finneon Fregato Sì, fregato La grande Ah, un altro Finneon Ma sì, dai Proviamoci Vabbè, sì Buonanotte Allora Oh, Lumineon Ma da Sì, vabbè Si arrabbia l'ultimo Eh, però No, no Fermati Oh, che fa? Che esce? C'è la bascoligio Non so, scemo Allora Ah Ma qui Ma io sono uscito Dall'altra parte Quindi da qui sì C'è un altro posto Proprio Ok, bene Mi piace Ah, entra Addirittura Ah E quanto è grosso sto posto Ma Non c'è niente Chissà quando servirà sta cosa Vabbè Per il momento niente da fare C'è un tent No, vabbè Dai L'avevo lanciata Era già preso Dai Tentacle Cioè Io non lo so Ragazzi Non per qualcosa Ma per correttezza Cioè E dai No, fermati Vai Megaball Paralizzato Dovremmo avere una piccola chance Più del normale Sì Sì Preso Allora Per concludere il video Penso che arriverò Proprio Al vulcano Sarebbe anche giusto No Ma anche prendere Questo qui Chi è? Mamma mia Che paura Ah Tu sei qui Fa un po' paura Lo ammetto Fa un po' paura Allora Qui c'è altro Qui sopra A parte gli shellos Oh Vieni con me Va Ho cattolato già qualche shellos Non mi pare Dunque La x3 sta un po' giù Oh Questa forma Mi mancava Ok Allora Che livello sei? 31 Buono Idropulsa Non male Va bene Ok Devo levarmi da qui Niente Vai Megaball Yes Gotcha Ora Quell'altro albero Anche Direi di andare A vedere Non c'è spazio Per questo strumento Che roba era Ah la prugnetta Eh bacca prugna Non è male Vai Che cavolo Oh mi sbaglio sempre Tasti Ancora Davo 20 ore di gioco Ancora sbaglio i tasti Ok Bormi Questo anche è l'ultimo Che dovevo vedere No 18 Porca Solo qui Si trova questo Vero Oddio Forse Solo qui No Un po' Un po' Esagerato Però Yuppie Doppio salto No Niente Mira Ok Allora A questo punto Ok Altri motim Qui Non mi interessano Mi dispiace Ragazzi Prendiamo Ste Di cocche Materiale Per costruire Sì Mi servirebbe Un po' Ok Arrivati Momento Ideale Per concludere L'episodio Eccoci qui Sull'isola Mangiafuoco Che caldo Insopportabile Non capisco Perché quelle brigantesse Abbiano deciso Di venire Proprio qui Proprio dove c'è Lo spettro Perdonami Link Ma potresti andare Avanti tu Non me la sento Di fare Da guida Ah Povero Growlithe Spero che Non lo stiano Maltrattando Allora Da qui Ok Aspetti Volendo Potrei volare Qui Allora Torno alla base Va Così ci vengo Anche con Machoke Evoluto Tra l'altro Machamp Quindi Nel prossimo episodio Lo faccio Lo faccio Evolvere Meno male Che ho messo La pokéball Lo faccio Evolvere In video Perché è la cosa Più bella Fare Evolvere Un pokémon In video Allora Che altro dire Niente Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Il video Ovviamente Ci mancherebbe Anche In descrizione Il link Per instagram E telegram Se ancora Non siete Iscritti A canale Magari Iscrivetevi E noi Ci vediamo Ovviamente Al prossimo Episodio Bye Bye